Ci sono volte in cui proviamo a non piangere, ma come si fa? Volte in cui cerchiamo di contenerci, ma proprio non ci riesce. E quando ci diciamo, stai calmo, ma chi vogliamo prendere in giro? Insistiamo sulle nostre posizioni, ma poi ci facciamo travolgere. Vorremmo essere sempre lucidi, ma il bello è proprio non capirci più niente. Lavoriamo per darvi minuti, sms e giga, perché sappiamo che voi li trasformerete in qualcosa di grande. Wind. Più vicini.